Ciao a tutti ragazzi qui è Visio e ben ritrovati ancora una volta al nostro Poké Sunday Ragazzi vi ricordo che abbiamo fatto degli spacchettamenti clamorosi le altre domeniche Vi lascio come al solito qui sopra la scheda Ho fatto una playlist dei Poké Sunday così ragazzi magari sarà più facile recuperarli per voi Quindi tutti qui sopra e allora io direi di andare ad aprire questi altri tre pacchetti Prima di iniziare questo video ragazzi io come al solito vi ricordo che sul canale è attivo un fantastico giveaway Vi lascio la scheda qui sopra e il link è in descrizione qui sotto Mi raccomando partecipate numerosi Eccoci qui ragazzi e allora come ci siamo ormai come vi siete ormai abituati Andremo a pesare i pacchetti Questa socca è una cosa che mi piace è una cosa che mi piace E quindi andiamo a vedere Allora primo pacchettino 21,66 questo è il peso che non ci piace molto eh 21,66 non ci piace tanto 21,74 ci inizia a piacere un po' di più Poi ultimo pacchetto Oh questo ci piace proprio tanto erano proprio in ordine come li volevamo aprire Quindi via la bilancia andiamo a vedere cosa troviamo Allora il codice come al solito via Facciamo il tricchettino E andiamo a vedere Allora abbiamo Coniton, Cosmog, Voltrop, Squirtone, Bronzor, Energia Verde, Rom, Erba, Persia, Farfetch E ancora Farfetch questa volta Reverse E poi abbiamo 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 un Ninetales Non holo purtroppo Ok adesso ci andiamo a aprire il secondo pacchetto Quello che come speso era di mezzo Allora come al solito facciamo il nostro trick Ragazzi ragazzi qui c'è qualcosa Qui c'è qualcosa avete visto anche lo sbelluccichio Allora Tentacool, Paras, Powerland, Stario Quest'altro qui che non ricordo mai come si chiama Avrete visto sicuramente gli altri miei spacchettamenti Ogni volta mi esce una forma evolutiva di questo pokemon Ogni volta non so né come si chiama né come si pronuncia Abbiatevi adatemi Poi Energia, Midorino, Amuleto Folletto, UC, War Tartal Oh questo è molto carino Heliolisk, Reverse E qua mi sembra di vedere qualcosa di molto bello ragazzi Ci siamo Questo ci piace tanto Bellissimo ragazzi Guardate che roba, guardate il brillante anche negli occhi di Gengar Ragazzi, meraviglioso Ragazzi ma chi ve li porta questi spacchettamenti da Dominica? Chi ve li porta questi spacchettamenti così belli? Allora Proseguiamo con l'ultimo pacchettozzo Andiamo a vedere Andiamo a vedere Andiamo a vedere Ci facciamo il nostro trick Ragazzi Indovinate un po' Siamo sfortunati noi Ma secondo me qualcosa c'è Allora abbiamo uno Jotik Uno Blitz Blitz, blitz Non so come si chiama Squirto Tentacur Paras Energia Jinx Hitmonlee Meridia Uno Psyduck Reverse Ragazzi Qua c'è qualcosa Oddio un'altra volta Ma io non ci credo ragazzi Ma come facciamo a trovare le doppie? Io non ci credo Vi giuro non ci credo Cioè E' ovvio che siamo contentissimi Perché non posso dirvi di non essere contento Però vi posso dirvi Cavolo Perché le trovo tutte uguali Ragazzi Che vi devo dire? L'unica cosa che vi posso dire È che questi Gengar Questi Mimikyu Vi chiedono di lasciare Grosso polliceone all'insù Iscrivetevi al canale ragazzi Per continuare a vedere Questi spacchettamenti Mi raccomando ragazzi Supportatemi Anche i social Mi raccomando ragazzi Instagram Facebook Spesso mi dimentico di chiederlo Ma è un grande supporto Che mi date anche con quello Io quindi vi rimando Al prossimo video E vi mando Tanti saluti Ciao 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 ciao